Vivere all'estero può essere difficile. Remitly ti aiuta a inviare denaro a casa ai tuoi cari e continuare a sostenerli. Con Remitly le commissioni sono basse o perfino assenti. Le tue informazioni sono protette. Il tuo tasso di cambio competitivo e il tuo trasferimento arriverà in tempo o ti restituiremo il denaro. Scegli l'opzione di consegna che preferisci e affidati a una rete globale di partner attendibili. Quindi monitora il trasferimento attraverso aggiornamenti che tu e il destinatario riceverete tramite messaggio di testo. Usufruisci di un'offerta speciale al tuo primo utilizzo di remitly.com Grazie a tutti.